Orsola, una ragazza della zona di Lanzo, che compitava il suo palco, sarei disposta a dare la vita perché i giovani capiscano quanto è bello amare Dio. E Dio, a sedici anni, l'ha presa in parola. Ecco in questa vostra compagna vi è più che una differenza. Vi è la scelta di lasciarsi innamorare in termini assoluti, facendo riferimento a Dio stesso, accettando di fare della propria vita un dono.